Prosegue in seconda commissione consigliare permanente l'esame del piano 12ennale 2013-2024 di sostegno all'Università della Basilicata. La commissione, presieduta da Gianni Rosa, nell'ultima seduta ha ascoltato il dirigente dell'ufficio attuazione degli strumenti statali e regionali della politica regionale, Liliana Santoro. Il dirigente si è soffermato sui tratti fondamentali della strategia di base del piano pluriennale. Il raggiungimento degli obiettivi prefissati, ha affermato Santoro, sarà monitorato attraverso precisi indicatori definiti per ognuno degli obiettivi strategici individuati nel piano, consolidamento e diversificazione dell'attuale offerta formativa, sviluppo dei processi di internazionalizzazione e di cooperazione interuniversitaria, potenziamento della ricerca scientifica, miglioramento dei servizi e degli interventi in favore degli studenti. Il presidente della commissione, Gianni Rosa, ha deciso di proseguire le attività sull'argomento, destinando ad esso ulteriori momenti di approfondimento e valutazioni.